Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Batman H. Asilium Ok Perfetto E non ti conviene scoprire che metodi usai Sono sicuro che eravate di più qui sotto Hai sentito il capo? Ok Vediamo di fare le cose fatte bene Oh cazzo Venite qui, tutti, da me! Ok Ok, voglio cercare di farla con calma Non c'è fretta Andiamo Perché sono tanti Oh, questo lo prendo bene Perfetto Cazzo di rola Ok, ce l'ho fatta proprio In estremis Perfettico Mi sono Guardate cosa c'è lì Ok Ai 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 норм Ai 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 Eh, non me ne ero proprio accorto Che figura di merda Che figura di merda Scusatevi ragazzi Non me ne ero proprio accorto Ok Ho fatto l'intervento da panico Peccato Mi è più dispiaciuto E invece sì Sta per arrivare Harley Quinn Lei sa come fare per sogliarti la lingua Passman ha fatto fuori uno dei nostri L'avete notato? Eh Ok Scusate ho sbagliato il pulsante Non serve questa adesso Vediamo un po' Se io andassi Allora bisogna vedere quanti e dove sono Perché sono due Silenzio Non fate casino Ce la farò Se andassi da un'altra parte Dai su Sono lì Dai Ce la fai a farlo Dai Forca miserica Mi deve fare sempre arrabbiare sto gioco Eh no Forza Trovatelo È solo una vecchia stanza piena di libri Che cosa volete che sia? Dove Aspetta ti guardo le spalle Ok Se riuscissi andare da lui Silenzio Questo collarino mi fa male A che cosa diavolo serve comunque? Cazzo Arrampicati Che sfiga Vai È da solo Vai 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 Bravissico Spostiamoci Ok È andata bene Sono tutti lì Meno male Ok Andiamo di qua Devo cercare di essere cauto Perché la fretta Porta Non porta consiglio Che cosa succede? Proviamolo I prossimi saremo noi Vi avete sentito? Ah ma lo siete sicuramente Ah certo sì Aspettavo solo che tu me lo dicessi Dove siete? Perché non vi vedo Qua c'è qualcosa No no Vedi lì è colui Ah sta andando colui Peccato È lì però Forse ce la faccio È rischioso Andiamo qua Vi ho assegnato Vi ho assegnato un paio di compiti facili Far parlare Fesh E trovare la dottoressa Yacht Con i suoi risponsi Qualcuno meno provato Puoi darmi a termine? Perfetto Questa è andata Due stanno andando di là Allora io Adesso Mi allontanerei un attimo E lui è da solo Cazzo Colpo Oh che figata No 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 Dai Ma no far così ste cacate Oh cavolo Scusatemi tanto Però ce l'ho fatta Guardate questo Ah si scusa Dicevo che c'era qualcun altro Allora prima di tutto Io devo andare a esplorare un attimo Qua perché avevo visto Che c'è Sì ma sei una bella maletta Eh Ok Grazie Prego Dove è andata la dottoressa Yacht Le ho detto di scappare Quei tipi l'hanno cercata Le ho consigliato di andare nel suo studio A nascondersi È lì che tiene i suoi appunti Credo di sì Era ansiosa di andare nello studio È da quella parte Quanto tempo fa è successo Devo trovare i suoi appunti Prima che Joker ci metta le mani sopra 20 minuti Forse di più Cos'hanno di importante quegli appunti Joker li vuole Questo li rende Rende importanti Resta qui Vado a cercarla Non c'è problema Provo con la radio Per vedere se c'è in giro qualcuno Wow RTA RTA Grazie dell'aiuto là dietro Sala di controllo Rispondete Allora Io vorrei andare a vedere un attimo Pronto Pronto Ma no lì Accedenti C'era una cosa che Vabbè Sputiamo questo Perché avevo visto Che ci era Qualcosa di interessante Però non ricordo assolutamente dove Forse di qua Andiamo giù qua C'era sicuramente Qualcosa Però non lo trovo ragazzi Era da qualche parte Vabbè faccio un giro e ve lo faccio a spero In effetti In effetti C'era qualcosa Perché mi dai F Qua Però come ci vado qua Scusatemi Plana grazie Ok Come ci arrivo qui dentro Andiamo forse da qua No Quindi mi sfugge Qualcosa Per entrare qui dentro Peccato Vabbè Pazienza Allora Dicevo Ma Non dicevo niente Io Devo andare di qua Da là Quindi di qua Giro qua E vado qua Sì Do là Andiamo do là Vediamo di qua Cosa c'è Vai Entra Ok Vediamo se qui c'è qualcosa Chissà quanti enigmi ci sono Io mi sono Perso Grazie In questo momento Ho qualcuno Che sta lavorandosi La dottoressa Si deciderà Presto A scutare La formula Ah Non vedo l'ora Per non parlare Dell'esercito Di pagliacci Che sta frugando In giro In un modo O nell'altro Quella formula Sarà mia Sì Perché non ti arrendi subito Avanti Gettati a terra E muori Una volta tanto Ma cosa che sei carino Qui c'è una porta Però prima vorrei fare Scusate Ho sbagliato il pulsante Questo qui E vedere cosa c'è Prima di andare alla porta Vediamo un po' Sì Non fa casino Grazie Qui c'è qualcosa Non c'è niente Qui c'è Cosa c'è Non c'è niente Non c'è niente Allora sì Stavo guardando Allora Scusate Di certo quando ci sono questi Vuol dire che la strada è giusta Oh Stai andando sotto la media Che avevo previsto Di questo passo Non mi batterai mai Wow ragazzi Ok Non mi interessa Pazzetto Non mi interessa Parli tutti Però Più quasi scopro Meglio è no? Quindi qua c'era solo questo Vediamo se c'è qualcos'altro Che mi sfugge Magari qua sopra Non c'è niente Vabbè Comunque abbiamo Risolto un enigma E la cosa mi fa piaciore Però Avrei preferito Trovare quello Che volevo trovare Che era Qua Ok No è chiuso anche qui Ah c'è niente Ma dove devo andare Un bel problema Perché io non vedo niente qua Non so voi Non so voi Ma io qua non vedo nulla Allora Dunque Di qua Neanche Di qua Neanche Di qua Da dove sono venuto Cos'è che mi sfugge esattamente Allora Vediamo un po' Like Mi ha detto che è chiusa Qua mi ha detto che è chiusa Giusto? Di qua Passiamo solo di là Devo tornare di qua Per andare di qua Va bene Ho capito Proviamo così come dice lui Perché Oddio scusate Perché se no Non lo capisco Quindi avrei soltanto Pronto Qualcuno risponda Qui è pieno di enigmi Che non troverò mai Ok quindi Scusate Dito per dito qua Però è chiuso È chiuso Sapete una cosa? Mi è venuto l'idea Abbiamo bisogno di aiuto Passo Fatemi vedere se effettivamente Di qua si va Non vedo un cazzo ragazzi Scusatemi Uno di questi Sono abbastanza sicuro Che porti Ok apri Non c'è niente Perché mi sembra strano Molto strano Che là non si possa andare Da nessuna parte Vedete? E non c'è niente per terra Ah non ho altre idee Allora Va bene Allora vi ho detto Che di là Porta chiusa E di là Oh devo fare il giro totale? Sembrerebbe un'idea Una possibilità Però mi sembra molto strano Sembra molto strano Vediamo un po' Ah io ci provo Non è che mi succeda Niente Ci provo Magari ci riesco Devo Sì Andare lì Molto semplicemente Corridoio stretto Qui ho chiuso Qui è quello lì strano E qui devo andare di qua Vediamo Devo andare Ah perché è chiuso Eh ragazzi Io non capisco Devi dimmi qualcosa Batman Perché se no io non capisco Allora Sì vado di qua Qua è chiuso Sì vado di qua Qua è chiuso Non ho altri posti Da andare Effettivamente ci potrebbe essere Una strada che faccia Che faccia così Non lo so Devo fare un po' di provole Perché Non si capisce ragazzi E non è mica colpa mia Io la mia Volevole Ce la metto Se Basta ma fai Fai bravo Non fare cacate Ok Allora qui avevi detto Che non c'era niente Di qua Si usciva Ok Ecco Adesso c'è da capire Ok Questa stanza E' stato Batman E' qui Deve essere stato lui Forse è stato Zaz Quello è un pazzo Impossibile Respirano ancora Zaz Non lascia mai vivo nessuno Ok Vai Ho provato proprio All'estremi E se ho detto Magari Dai ci riesco Ok Perfetto Va bene Ce l'ho fatta Allora vediamo Se effettivamente Adesso qui Che dato che c'è qualcuno Che prima non c'era Se è cambiato qualcosa Allora In teoria Qua Si può andare Forse Vediamo subito Se è vero Qua c'è qualcosa Forse qui Nessun oggetto Vediamo Sì Si può andare Vediamo se Effettivamente E come penso io Potrebbe No Perché io sono andato giù Qui va di qua Io dovevo andare qua Perché cazzo ho fatto Perché è tanto Nuova Adesso la esploro Però Mi piacerebbe Tanto sapere Se effettivamente Ci sia qualcosa Da fare Oh Però quando c'è questa roba qui Di solito È la strada giusta È quello che mi preoccupa Un pochino Non so se avete capito Io ci provo Poi se va male Va male Insomma c'è Non è stato di più Non ho idea Joker non ci comunica I suoi piani Era spaventata Forse sapeva Cosa stava per succedere Può darsi Ho sentito che ha portato Qualcuno Che possa trattare con lei Avrebbe dovuto chiedere a me L'avrei fatta parlare E mi sarei divertito È interessante sta cosa L'avete vista? Allora Andiamo un attimo qua A parte che qui c'è qualcosa No che cade giù C'è qualcosa di interessante Oh che cosa gradita Ah l'esplorazione in questo gioco È una figata Io lo dico sempre Lo dico sempre Vai Perfetto Abbassati Uh Grande Avevo di fronte il killer Dei miei familiari Dopo anni di terapia La sua mente È guarita Ero orgoglioso Di vederlo libero In cambio della sua libertà Lo Stato si accontentò Di una firma Disse che voleva fare Una passeggiata nel parco Desiderava sentire l'aria Sul volto Poi prese la penna stilografica Di mio padre E uccise la mia segretaria Così Venne bloccato Lui urlava Inflorava perdono Pietà Ma io Non ne avevo più Restai a guardare Mentre le guardie Lo riducevano A brandelli Per terra Mamma mia Che cosa inquietante Ragazzi Oddio Ah Vabbè E qui c'è qualcosa lì Che mi interessa parecchio Vediamo un po' Se così ce la faccio Vediamo Dai Ti va giù Ti va giù Ti va giù Grande così E Non ci arrivo Non ci arrivo Perché mi devo abbassare Allora Vediamo se c'è qualcos'altro Che è meno inquietante Non c'è niente qua Qua però ci vado Oh Grande così Oh Che cosa gradita Ragazzi Che cosa gradita Qui c'è niente Non c'è niente Bene Sono contento Dai Alla fine Non stiamo andando malissimo Certo che se avessi fatto Meno cacate Vai Oh Ho fatto una Una lissiata da panico Oh Vai così Vai così Grande così Grande Batman Vai vai Ammazzolo Che lui c'ha la pistolina E anche te Vai così Vai così Vai Una leppa da panico Esami Ok Abbiamo fatto più questa Vediamo se c'è qualcos'altro Non c'è niente Quindi Se io adesso andassi qua Cioè io devo capire Effettivamente Per me è qua Che dovevo andare Però adesso ormai siamo qua Andiamo qua E vediamo Oh Salve Eh Batman Benvenuti 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 A tecna di Arkham La storia è Inutantissima Che figura di merda No che c'ho spinto Pussate No che te Bisogna di fare No Ti bisogna Un sacco di casino Ok Vai 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 così Vai vai così Io l'ho spinto La Y Sei un animale Ok 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 Vai Ok Vai Mamma mia Da panico Da panico Da panico Ok Vai Oh cavoli Mamma mia Mi sono fatto un braccio Questa come una casa Vero? Vero? Adesso basta che scendi le scale E vai a salvare i poveri ostaggi Allora quindi dovremmo venire di qua Ok Andiamo? Ho visto già qualcosa E quindi mi piace tanto Andiamo C'è nient'altro? No Wow c'è tanta roba da fare qui Tanta Oh che bello Il rondello Allora Qui c'è qualche oscia Ma ci sono tante osce da fare qui Cosa c'è qui? Niente Allora Vediamo un po' Oh Ci assomigliava parecchio eh Avete visto? No Scusate ho sbagliato Cioè Non dovrebbe essere Però ci assomigliava Vediamo un po' Ma non dovrebbe Infatti ok Vediamo pure E qui C'è effettivamente qualcosa E ne vuoi già andare dalla festa? Grazie E gli altri ospiti? Troppo gentile Ma moriranno tutti Se non vieni tu a salvare la situazione Ok Adesso vediamo di sopra Se effettivamente c'è qualcosa Si C'è qualcosa Però prima vediamo bene tutto Quello Non lo so cosa sia Fa vedere cosa mi dice Lampadaio Interessante Veramente interessante Non vedevo l'ora di saperlo Ok Vai Vai Facciamo così Non vedo l'ora Qua ci sarà di bello qua Inizia a leggere dall'ultima pagina Dici? Dillo in cinese È in giapponese Che leggono Iniziano dall'ultima pagina A scrivere Che farà fare un bel sorriso A quei dottori così tristi Tic toc Tic toc Ok Ok Ma Che strano Nessun oggetto A che pro Venire qui Forse per una scorcia Troia Non riesco a dirlo oggi È inutile Una scorcia Toia Oh La toia La toia Au C'è qualcosa qui Oppure Così tanto per fare Mi sembra strano Ah ecco Vedete Lì c'era qualcosa Qualcoscia Bene Adesso ho potuto A metto che comincio ad annoiarmi Potrei prendere il pulsante subito E Vai 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 Scherza Ma lui scherza sempre E' inquietante Ok qui ce n'è uno Qui Qui cosa c'è Niente La finestra Qui non c'è nulla Vero Quindi devo andare Forza Meno che non sia No Un altro muro Un altro muro troll Ok Vai Voglio vedere anche se c'è qualcosa su A noi ci salutiamo Ragazzi No facciamo video troppo lungo E dopo Vi lamentate Allora Oh Salve Dici Eh ma io non so come fare Devi dirmi qualcosa Cosa Cosa devo fare Ah questo Vai Oh Arrivo arrivo Non posso scendere Vai Allora Vediamo un po' Vediamo cosa posso fare Ok ce l'ho fatto Oh cacchio Mi hai fatto prendere un colpo Oh santa miserica Grazie Batman Prego se ti piacere Eh si eh Sì Adesso sei al sicuro Cosa è successo È stato tutto così veloce Alcuni pazienti hanno fatto irruzione E hanno iniziato a rompere tutto Forse stavano cercando qualcosa Bill ha cercato di reagire Ma erano in troppi Hanno preso la dottoressa Young È entrata qui e l'hanno seguita Mi spiace Quando mi sono ripreso Mi sono ritrovato legato La dottoressa era sparita Ok ragazzi Direi che per questo video è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video con Batman E come al solito Vi invito a lasciare un like Un commento se vi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso vi do Saluto a Shiva Ciao ciao